Ben trovati da Chiacchiere e Caffè, ben trovati dal Bacio Bianco, il nostro buongiorno in questo martedì, fammi vedere la data, Delfino, 24 di aprile, non volevo sbagliare, ci siamo. Buongiorno, un saluto a tutti, ai telespettatori che ci seguono, a quanti si stanno svegliando, a quanti stanno andando al lavoro, a chi ormai è già partito da casa, ma non ci ascolterà, ma anche lo salutiamo lo stesso. Buongiorno Delfino, tu come stai? Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli spettatori, io bene, grazie, anche a te ti vedo in perfetta forma, e anche Luciano dietro la telecamera. Che ha fatto così, e Alfonso Tarantino in regia, Alfonso buongiorno, buongiorno a Francesco, titolare del bar Bacio Bianco, e ai clienti che questa mattina stanno facendo colazione in questo momento. Prima pagine di oggi, Delfino, si parla di governo sì, governo no, nuovo incarico da parte del Presidente della Repubblica con mandato esplorativo a FICO per tentare la carta Movimento 5 Stelle PD. Poi si parla di sport, con la Scandone che domani giocherà la finale d'andata della Europe Cup, ci dirai tu. Altri argomenti, insomma, di cronaca in evidenza, le condanne per il caso Baby Squillo, due condanne anche a dieci anni di carcere per questo caso di cronaca giudiziaria che ha fatto parlare molto ad Avellino e non solo, insomma, tanti argomenti. Poi tra poco ci raggiungerà la nostra life coach Antonella Russoniello, alla quale chiederemo Napoli Juve, chi ha più bisogno del motivatore, del life coach, e come andrà a finire. Intanto domani poi festa della liberazione. Partiamo da qui. Chiedo ad un cultore della storia, quale sei, quale significato assume la giornata di domani. La giornata di domani assume un significato particolare, soprattutto in questo momento. È un'Italia, il 25 aprile l'Italia si ritrovò, si ritrovò improvvisamente unita, fu il giorno in cui fu lanciata l'insurrezione generale dal Comitato di Liberazione Nazionale, si ritrovò di nuovo improvvisamente unita un po' tutta questo invasore tedesco che da amico era diventato nemico ed è quello che dovrebbe ispirare anche oggi, soprattutto i nostri politici, visto che ormai è oltre un mese e mezzo che abbiamo votato. Quasi due mesi. Non abbiamo ancora il governo facendo ridere un po' tutta, non solo tutta Italia, ridere, piangere in questo senso. È una barzalletta, l'ha detto Francesco, insomma, a proposito di ridere. È arrivato il momento di quagliare qualcosa. Di concretizzare e questo appunto detto in prossimità della festa della liberazione che fu uno comunque dei momenti di unione maggiori della nostra penisola nel recente passato, insomma, anche se ormai sono passati 73 anni, resta significativo soprattutto perché appunto in questo momento c'è un'oggettiva difficoltà da andare avanti nell'ordinario così come era all'epoca, soltanto che all'epoca c'era il fuoco, non solo il fuoco delle armi che purtroppo parlava, ma c'era il fuoco soprattutto della volontà di voler riunire, di voler trovare di nuovo la propria patria che sembra che al giorno d'oggi sia completamente perso. A questo punto potrebbe partire l'inno nazionale, ma non ce l'abbiamo di sottofondo. Alfonso, in regia, se puoi fare qualcosa per noi, aiutaci. Buongiorno, Antonella Russoniello, l'avevamo evocata. Buongiorno a te Antonella, come stai? Ben trovata? Tutto bene, tanti auguri Enzo, è stato il tuo compleanno. Grazie, gentilissima. Quindi ricordiamolo, ricordiamolo. Ascoltavo quello che diceva Delfino prima e mi veniva così una considerazione. Pensando alla piramide dei livelli logici di Robert Dils, che magari la prossima volta vi porterò perché adesso... Facciamo un grafico e lo... Non ho la possibilità di farvela vedere, però in realtà questa piramide parte dai valori, che è il livello più alto, e arriva ai comportamenti, quindi alle azioni. In realtà, quando in un momento come questo, se si volesse riallineare tutta l'azione politica e avere dei comportamenti diversi, quindi riuscire a raggiungere l'obiettivo di trovare un accordo e governare il Paese, basterebbe sostanzialmente richiamarsi a dei valori più elevati che esistono, che sono il bene della collettività, che sono i valori fondanti della Costituzione, che sono la necessità di traghettare il nostro Paese fuori da un momento complicato. Quindi, probabilmente, se, come dire, anziché si volasse un po' più alto e si rivolgesse lo sguardo a questi... Aspetta un attimo, Delfino, tutto ok? C'è stato un attentato? C'è stato un attentato? No, tutto bene. Alle spalle larghe, il ragazzo. Scusami, Antonella, mi sono preoccupato. Quindi, probabilmente, cambiando i valori di riferimento, si riuscirebbe a cambiare i comportamenti e anche a... questa era un'altra cosetta che avevo portato, ma non mi è venuta molto bene stamattina. Da poco ve la mostriamo. Parliamo di tempo, però, immagino, giusto? Esatto, esatto. Quindi, credo che ogni volta in cui bisogna prendere una decisione importante, riferirsi ai valori, può essere qualcosa che unisce anche gli opposti. Bisogna volare alto. Buongiorno, chiedo scusa, chiedo scusa. Generoso. Un cliente, penso, è un avventuratore del bar. Chiedo al volo. Buongiorno, intanto, ben trovato. Grazie di partecipare al volo alla trasmissione. Quale notizia vorrebbe trovare sul giornale? Adesso li leggerò. Che si faccia presto il governo. Ah, ecco. Quindi è una barzelletta, pure secondo lei. Sì, perché questa è una cosa seria. Quindi si faccia presto il governo, speriamo che, perlomeno, l'Italia recuperi quella cosa che, giustamente, è il posto che gli compete. Ha preso il caffè, tutto a posto, la colazione. Guarda, Francesca è sempre tutto a posto. Un bacio bianco. Grazie. Buon lavoro e una buona giornata. Grazie, grazie generoso. Grazie generoso, ecco, è bello anche ascoltare le persone che volentieri partecipano con noi alla trasmissione, ma questo a testimoniare ancora l'accoglienza del bar bacio bianco e la notizia che vuole leggere che si faccia il governo. Insomma, mi sembra un sondaggio così al volo, ma... Vedi, il signore ha espresso, diciamo, un obiettivo forte che è quello di superare, diciamo, lo stallo e quello che poi tutti noi italiani vogliamo, come dire, risentire è che il nostro paese è un grande paese e deve riprendere il posto che gli compete. Allora, le prime pagine dei quotidiani, andiamo, Delfino, approfitto in questo caso di te. Fico cerca il PD, il gelo di Renzi, Mattarella affida il mandato al presidente della Camera, l'ipotesi di un patto con Movimento 5 Stelle spacca i democratici, svolta del ministro dei beni culturali. Vediamo le carte grilline, dice Franceschini, l'intesa si può fare la rabbia di Salvini. E poi la foto, il presidente della Camera, Fico, circondato dalla polizia e carabinieri all'uscita del Quirinale dopo il colloquio con il capo dello Stato, Mattarella. Toronto, furgone sulla folla, nella città dove si tiene il G7, l'autista mirava le persone. Questo attentato, ieri all'ora di pranzo, era notte in Italia, ma si esclude la pista terroristica, è stata esclusa, poi all'alba di questa mattina si è trattato di uno squilibrato. Il Corriere della Sera, Antonella scusami, Fico sonda il PD, Ira di Salvini, il leader leghista una presa in giro, Di Maio lui ha chiuso, buona fortuna. Il governo fino a giovedì per verificare l'intesa, apertura di Martina, poi si parla delle elezioni in Molise con la vittoria del centro-destra. Furgone sulla folla, strage in Canada, puntava 1-1. Il fondo di Venanzio Postiglione, la spinta all'unità dalle urne, Lega e Forza Italia. Era questo il commento. Andiamo sui quotidiani locali, andiamo a vedere che cosa ci dicono il mattino e il quotidiano del Sud. Anzi, scusami Delfino, diamo anche uno sguardo al fatto quotidiano e poi arriviamo al quotidiano al mattino. Fico chiama il PD, Renziani fuori di testa e Di Maio saluta Salvini. Loro e il Berlusconi di Sorrentino finì tatuato su una chiappa. Da oggi nei cinema, le ragazze e la coca per arrivare a lui, Berlusconi. E questa è l'apertura del fatto quotidiano. Invece, dicevamo, la cronaca di Avelline Provincia. Con la prima pagina del mattino e come preannunciato, la cronaca giudiziaria. Baby Squillo, 10 anni a De Vito, condannato il titolare del circolo all'incontro per sfruttamento della prostituzione minorile. In aula, alcune giovani finite nel giro trappola di Via Vasto, due anni e pena sospesa per il cliente. Bilancio, il prefetto diffida il comune di Avellino per la mancata approvazione. Nel pomeriggio ci sarà il consiglio comunale che dovrà invece ratificare i conti dell'Avellino Città Servizi. Un'approvazione propedeutica poi al bilancio che dovrebbe arrivare in aula entro la prima decada di maggio. Pena è il commissariamento, nonostante siamo alla fine, ma i numeri dovrebbero esserci per l'approvazione. Via gli alberi riapre la strada del Loreto. Questa è una notizia importante, è molto attesa. Ci sarà l'arrivo di tappa del Giro d'Italia a Mercogliano e la strada dovrà inevitabilmente riaprire per garantire la sicurezza. Nicola Mancino e la giustizia dei teoremi. Nel pomeriggio alle 17 ci sarà una conferenza stampa di Nicola Mancino ad Avellino. Dopo l'assoluzione nel processo sulla trattativa Stato-mafia per falsa testimonianza, alle 17 in diretta potrete seguire anche sui nostri schermi questo appuntamento. Chissà che Mancino non dica qualcosa anche sul capoluogo dove ci sarà una discussione che va avanti sul totosindaco. Total Life invece, regina Erpina del 5x1000. L'articolo a firma di Domenico Zampelli. Ogni tanto è bello leggere anche qualche buona notizia. Total Life è una onlus che nasce ad Avellino, il ricordo di Antonia Godas, una ragazza bellissima, giovanissima, purtroppo scomparsa prematuramente. I genitori hanno trasformato una tragedia in un miracolo perché praticamente loro operano in Kenya, hanno di recente consegnato un ospedale mobile e io ho avuto la fortuna e il piacere di intervistarli più di una volta, quindi di conoscere la realtà di Total Life e di ascoltare questi racconti bellissimi di come con un mezzo ben attrezzato naturalmente si possa fare tantissimo in paesi dove basta una banalissima infezione, una sciocchezza proprio banale che si risolverebbe con niente per morire. Quindi Total Life è una realtà che fa onore all'Irpinia, che fa onore alla città di Avellino e anche gli avellinesi che hanno donato il 5 per 1000, come dice il titolo dell'articolo, hanno fatto qualcosa di bello, quindi bravi a tutti. Sottolineiamo dunque anche questa bella notizia. La prima pagina del Quotidiano del Sud, Antonella scusami, Caso Baby Squillo, due condanni, anche qui è la notizia del giorno. Il caos nel Partito Democratico, ma di Guglielmo, eletto segretario, piovono intanto i ricorsi. Aias, sciopero della fame, l'assurda vicenda per pazienti e lavoratori dopo la chiusura del centro di riabilitazione, la protesta per il mancato pagamento degli stipendi. ma protesta anche per i ritardi sulla ex Irisbus, protesta anche degli operai forestali che in alcuni casi da 16 mesi non percepiscono lo stipendio. Insomma, questi poi sono i problemi quotidiani che meriterebbero attenzione ed una risposta. Delfino, cosa ti ha colpito di più delle notizie fin qui trattate? Delle notizie fin qui trattate, sicuramente la condanna della vicenda delle Baby Squillo. Insomma, che davvero è una vergogna sotto tutti i punti di vista, soprattutto sotto il punto di vista sociale, è un problema veramente grave, perché non c'è soltanto chi sfrutta queste persone, ma anche chi si fa sfruttare da queste persone, perché in questo caso non è una prostituzione per necessità, è una prostituzione per volontà. E fatta a questa età davvero vuol dire già svilire completamente qualunque tipo di aspetto personale e morale. Quindi che finiscano condannate queste persone è sempre un bene, bisogna poi lavorare e tanto all'interno delle famiglie. di quei valori di cui parlavamo prima, insomma, anche qui ne possiamo parlare rispetto a questo caso. Assolutamente sì, è una vicenda veramente triste, veramente, ecco, come dire, il lato nero di quello di cui abbiamo parlato prima e certamente, come dire, pensando a queste giovanissime protagoniste di questa vicenda, mi viene da pensare che comunque una certa percentuale di, tra virgolette, circonvenzione ci sia stata, perché comunque parliamo di personalità, informazione, insomma, sicuramente pugno di ferro contro chi ha approfittato di queste persone e secondo me necessità di stare vicino invece a coloro che, diciamo, hanno commesso questo tipo di tragico errore che poi purtroppo porteranno con loro per sempre. Diciamo che poi una vita viene inevitabilmente segnata. Delfino, noi ci eravamo lasciati anche qualche settimana fa con il cyberbullismo, vite che vengono segnate dai post che vengono messi in rete. Anche su questo, insomma, dobbiamo tenere alta l'attenzione e attenzione a come utilizzate i social e più in generale la rete. Postare lì qualcosa di sbagliato, anche una fesseria, poi può segnare la vita per sempre. Sì, esatto, può segnare la vita per sempre, quindi rispetto per se stessi innanzitutto, quindi sui social, l'attenzione a fotografie, a dati personali, a tutto quello che può essere un qualcosa che possa rintracciare il vostro percorso di vita, quello che fate abitualmente, quelle che sono le vostre abitudini. E dall'altro lato, rispetto anche per gli altri, perché dietro una tastiera, insomma, siamo tutti bravi, poi il problema è avere un confronto, ma non nel senso fisico, ma un confronto dialettico con le persone per sostenere eventualmente le proprie tesi. Quindi una cosa è scrivere senza, con più o meno anonimato, e una cosa è poi invece sostenere qualcosa di veramente concreto. Ai ragazzi dico sempre, quando si tratta di parlare di questo, state soprattutto attenti appunto a quello che postate riguardante la vostra vita personale, fateci caso che sui motori di ricerca, se cercate qualcosa, e quindi non so, anche un oggetto semplicemente da comprare, una borsa, delle scarpe, un po' di abbigliamento, o un viaggio, fateci caso che nelle successive pagine che poi voi andrete a visitare, ci sarà un banner pubblicitario che rimanderà a quello che voi avete cercato. Proprio a quello che voi avete cercato. Fateci caso, fate questo esperimento, fatelo ad esempio con un viaggio, pensate di organizzare un viaggio in una parte qualunque del mondo, in modo tale che sia la più casuale possibile, troverete questo richiamo. La rete conosce e sa le nostre abitudini, ce le ripropone in continuazione a fini commerciali, e così come sono le abitudini, così possono essere le nostre tracce di vita quotidiana. Attenzione, attenzione, attenzione. Volevo rapidamente fare il punto su due notizie che credo di cui si parlerà oggi, e sono queste. Registrato bimbo con due mamme, se un sindaco va oltre la legge, si parla di Torino, e del fatto che per la prima volta ci sia la registrazione di un bambino non nato all'estero con l'utero in affitto, ma nato in Italia. Questa mi sembra la novità della notizia. e poi il dramma di Alfire, spinto il ricorso per tenerlo in vita, interviene l'Italia, l'Italia che ha chiesto di poter dare la cittadinanza a questo bambino britannico, per vedere se c'è la possibilità di altre cure all'ospedale Bambino Gesù di Roma, ma mi sembra che il governo britannico sia inflessibile su questo punto. Insomma, due notizie che toccano, Antonella, poi argomenti non sempre facili da affrontare anche sui giornali, perché probabilmente meritano approfondimento al di là della notizia secca e delle poche righe. Vengono due considerazioni. Da una parte, la realtà segue i propri ritmi, il mondo cambia, le cose cambiano e quindi un sistema legislativo come il nostro, per esempio nei paesi anglosassoni funziona diversamente, la giurisprudenza innova la legge, nel nostro caso è diverso, c'è un procedimento diverso. Perché ci impieghiamo un po' di più a fare il governo? Non è solo la differenza tra civil law e common law, come dicono i giuristi. Quindi, diciamo, da una parte vediamo che appunto in qualche modo il diritto fa un po' più di fatica ad adeguarsi ai cambiamenti sociali, da una parte. Dall'altra, la vicenda del bambino inglese mi fa pensare, da una parte, comunque a questa apertura dell'Italia, a questo cuore del nostro paese, degli italiani, che comunque si manifesta, per fortuna ancora, e dall'altra forse viene anche un po' da pensare che la nostra cultura, che è comunque una cultura cattolica, in qualche modo abbia un atteggiamento diverso come dire, nei confronti della vita. Ora, diciamo, con tutti, ovviamente questi sono dibattiti molto, molto forti, perché probabilmente anche il Papa è intervenuto in questa vicenda, insomma, ha chiesto che si potesse agire così. Esatto, quindi dico, mi pare che questo diverso atteggiamento dell'Italia forse potrebbe trovare una motivazione profonda all'interno, diciamo, di un nostro sistema diverso di valori, come vediamo. Comunque auguriamo a questo bambino il meglio per quello che sarà ciò che è il suo destino. Antonella, non abbiamo mai tempo, non c'è mai tempo, come recuperare questo tempo? Era uno degli argomenti di cui volevamo parlare, abbiamo poco tempo però. Esatto, come al solito. Allora, intanto cominciamo a dire che il 12 maggio al Museo del Risorgimento, dalle 11, io farò un piccolo incontro di due ore appunto sul time management, quindi sulla gestione del tempo. Intanto, stamattina ho avuto un problema con la stampante, quindi diciamo la qualità... Dico io, allora abbiamo quattro quadranti. La spiego io. Allora, questa qui è la matrice di Eisenhower, che è una fatta, elaborata dal famoso generale Eisenhower, che praticamente è un modo per gestire il tempo e mi sa che l'ingegnere al nostro fianco dovrebbe particolarmente apprezzare. Allora, come gestire? È sempre un fatto di scelta di priorità, quindi dobbiamo sostanzialmente distinguere le nostre attività tra quelle che sono urgenti, quelle che sono importanti, quelle che sono urgenti, importanti e non importanti. Poi abbiamo all'interno, quindi suddividere e creare un quadrante in cui qui collocheremo le più importanti, le urgenti e importanti. Quindi quelle che dobbiamo fare necessariamente noi non possiamo delegare, ma che sono anche urgenti. Poi abbiamo le importanti, ma non urgenti, quelle che faremo non appena avremo svuotato questa casella qui, quelle che sono urgenti, ma non importanti, che forse possiamo anche delegare, e quelle che sono non urgenti e non importanti che relegheremo in fondo alla lista facendole nel tempo che ci rimane. In generale, questo dedicare un po' di tempo a dare una qualificazione alle attività vuol dire che noi già mentalmente le abbiamo collocate in una lista a parte. Il segreto è quello, intanto organizzarsi e stabilire dove collocare le cose, le priorità. Esatto, dare un attributo a quell'attività, anche perché così evitiamo di fare come i pompieri, correre a spegnere gli incendi, ma utilizziamo il tempo nel modo in cui abbiamo pianificato, evitando di dare priorità a cose che magari sono meno importanti di altre e anche a sentirsi stressati, perché nel momento in cui abbiamo dieci cose da fare, ma solo tre, per esempio, rientrano tra quelle urgenti e importanti, una volta le abbiamo fatte saremo più sereni. C'è un proverbio, non so se è avellinesi o comunque dialettale, che dice prima con prima, cioè fare prima le cose che bisogna fare e che si decide di fare per prima. Avevamo un Eisenhower irpino. La gazzetta dello sport, la gazzetta dello sport di oggi è Roma, all you need is goal. Parliamo dell'andata della semifinale di Champions, questa sera la Roma rappresenterà l'Italia. e dunque grande attenzione su questa sfida. Poi la sfida del campionato Juve-Napoli su chi punto l'ha volato una scudetto analizzata. Antonella, ti avevo chiesto prima, insomma, hai seguito? Non so se hai seguito un po'... Come ben sai, il calcio non mi interessa assolutamente. Ed è questo il bello. Allora, puoi dirci ancora di più. C'è la Juve che era avanti, poi ha perso al novantesimo con il gol del Napoli. Napoli che è in piena corsa adesso per la conquista dello scudetto. Dal punto di vista psicologico, queste due squadre... Beh, certamente il Napoli è molto, come dire, sospinto da questa vittoria, dal grande seguito dei suoi supporters. Quindi è probabilmente anche dalla voglia di farcela insomma a questo giro. Quindi credo che abbiano una predisposizione migliore. Ma sicuramente dall'altra parte non mancheranno i mental coach anche sull'altro versante. Per cui, diciamo, alla fine probabilmente, come dice il libro di Inner Game, che è il primo, insomma, una di quelle da cui nasce il coaching, in realtà ci sarà lo scontro sul campo e poi dietro probabilmente ci sarà lo scontro tra i preparatori mentali delle due diverse squadre. Delfino, come andrà a finire? Intanto buongiorno ai clienti del Bacio Bianco. Tra poco andremo ad ascoltare. Facciamo fare colazione e poi tra poco arriveremo. Delfino. Allora, Napoli Juve, per chi come me è un soggetto terzo nel senso che ha soltanto il lupo nel cuore per cui non gli interessa nessuno delle due squadre, è sicuramente un bellissimo finale di campionato perché teniamo presente che al gol dell'Udinese della settimana scorsa i punti di differenza erano ben dieci e adesso sono uno. Adesso è diventato uno. Nel giro di un... È tutto aperto, anche per la salvezza tutto aperto. Esatto, è tutto aperto. Ora, indubbiamente il Napoli ha una grande spinta e ha ottenuto un risultato importantissimo che le ha permesso di ricolmare il gap che aveva. La Juventus d'altronde in questo momento non ha più un impegno europeo che le ha tolto soprattutto energie mentali più che energie fisiche. Per cui anche il contracolpo di quanto è successo a Madrid è stato duro da assorbire anche per una squadra abituata alle vittorie e alla vita europea. Quindi sarà davvero una bella volata e sicuramente arriverà vincitore non solo chi lo meriterà e indubbiamente tutte e due lo meritano in questo momento ma anche e soprattutto chi ne avrà di più. Invece parliamo al volo 30 secondi sulla finale che domani vedrà il protagonista la Scandone Avellino. Quante chance ci sono di portarla a casa a questa Coppa? Beh, in un campionato nel quale ci sono molti giocatori americani o comunque con mentalità americana le chance sono sempre al 50% perché sulle partite secche si cambia completamente tutto rispetto al campionato. Indubbiamente l'avversario è tosto perché Venezia è campione d'Italia perché Venezia è una squadra che sono anni che è solida una squadra che ha i giocatori lì dove li deve avere un po' di carenza di playmaking a mio giudizio però insomma stiamo a guardare proprio il capello e deve essere una finale vissuta con estrema serenità nel senso che il risultato raggiunto della Scandone è comunque storico perché nessuna squadra erpina aveva raggiunto mai una finale europea in nessuno sport e la finale europea manca dalla campagna dall'85 se non sbaglio insomma dalle ultime finali disputate dal Napoli nel calcio quindi stiamo parlando di decine di anni fa è una finale apertissima una finale che speriamo che porti la coppa chiaramente in Irpinia il ritorno in casa di Venezia certamente non ci aiuta però quello che è importante è vincere domani Delfino apro un po' per far vedere che il sole ormai si è alzato sull'Irpinia facciamo un test caffè invece al volo come è andato questo caffè al bacio bianco il caffè al bacio bianco è sempre ottimo tutte le mattine e non ci eravamo messi d'accordo prima Francesco quindi ascoltiamo la voce dei clienti io la conosco però questa persona la conosco mi sa che siamo andati ci rivediamo dopo dieci anni tipo caramba che sorpresa una sorpresa in diretta bellissima tutto bene Luca Luca Lucannese grazie vogliamo fare un in bocca al lupo un saluto a quanti ci stanno guardando adesso si sono appena svegliati una buona giornata e un saluto al bacio bianco insieme a Francesco grazie grazie a Luca la buona giornata che arriva ai nostri telespettatori ecco stamattina siamo così al volo prendere le persone ci piace perché poi c'è bisogno insomma di far arrivare anche a casa la vita la vita vera le persone che si alzano vanno al lavoro si fermano a fare colazione Francesco noi siamo quasi in chiusura tu vuoi farci un saluto al volo lo so che ci sono delle persone ma io ci tengo particolarmente perché forse la prossima settimana non saremo qui e quindi voglio ringraziarti per l'ospitalità che ci hai offerto in queste settimane è stata una bella esperienza ci siamo sentiti a casa voglio dirtelo grazie mi fa piacere grazie a voi per la vostra ospitalità anche vostra nei miei confronti sicuramente credo che ci rivedremo nei prossimi mesi con un'altra chiacchiere e caffè perché è stato un programma bello divertente ci siamo ci siamo trovati bene entrambi sia io e Emma che voi che siete venuti quindi oggi con te sarà l'ultima perché domani chiudiamo il programma con Ottavio e quindi poi non so i tre compari stanno preparando i fuchi d'artificio per il finale al bacio bianco dunque appuntamento da non perdere domani mattina alle 7 e un quarto intanto grazie ancora grazie ancora a te Francesco e signori noi dobbiamo chiudere Alfonso Tarantino dalla regia ci fa segno siamo arrivati buona giornata Delfino buona giornata a te buona giornata a tutti e ripeto pensate anche al significato del 25 aprile di domani soprattutto pensate che è stata una festa di tutti gli italiani e che quindi non è giusto che ci si riservi di avere questa festa soltanto per chi l'Italia poi l'ha liberata materialmente il pensiero va fatto anche a chi credette in quella credette o fu obbligato a credere in quella repubblica fantoccio che fu la repubblica di Salò non sono morti di serie B sono morti di serie A esattamente come tutti gli altri che per questa causa per questa infame causa di una guerra civile perché quella fu morirono all'epoca sono italiani ed erano italiani e come tali domani è la festa dell'Italia e degli italiani e vanno ricordati tutti soprattutto quelli che ad una causa sbagliata dovettero credere e non poterono decidere grazie a Delfino Antonella buona giornata anche a te grazie per essere stata con noi grazie a te sempre per l'invito io invece direi di approfittare di questa giornata festiva anche per leggere qualche testo di storia naturalmente come suggeriva Delfino ma anche per immergerci nella natura e nelle bellezze artistiche del nostro grande meraviglioso paese grazie e allora buona giornata e saluti da Chiacchiere e Caffè ciao grazie a tutti